Allora da quello che mi hanno detto devo semplicemente andare a cliccare su 8 bit per 7 volte e possiamo vedere che c'è questo counter che si va ad azzerare E poi una certa mi apre letteralmente quello che 8 bit ci aveva in faccia Ok Ehi la gente benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su Brawl Stars Innanzitutto scusatemi se ieri non ci sono state live ma come potete vedere ci sono un paio di cambiamenti qua in studio quindi Alexa accendi i fari Non capisci mai niente vero? Devi rovinare tutti i momenti Alexa accendi i fari Ecco adesso hai capito stranamente Ecco qua ragazzi ecco qui c'è stato un po' una rimodernizzata del tutto Vabbè l'arredamento lo conoscete lo stesso di prima poi pian piano ci saranno anche altri cambiamenti Però lo studio non è cambiato non mi sono trasferito sono sempre qui Io ho semplicemente deciso di girare la schiavania all'inquadratura sul lato più grande della stanza E ho tolto quel bruttissimo mobile e abbiamo dato un po' di colore con l'aiuto del mio babbo Insomma se venite oggi in live sicuramente ci saranno tante domande e ne parleremo Anche perché ripeto ci saranno ancora altre modifiche qui dentro quindi ragazzi restate in allerta Se c'è una cosa che mi sono meritato è un buon caffettino sì così a video Ma in realtà ci sta ci sta il caffettino video perché questo è un video rilassante Diciamocelo Oggi non si droppa Oggi vi mostro infatti come è possibile giocare a una sorta di minigame su Brawl Stars Che è uscito così fuori dal nulla ieri Me l'avete segnalato in tantissimi io ero qua con tutto lo studio in sobbuglio Ho detto cavolo domani mattina registrerò questa cosa perché è una figata pazzesca Andiamo ovviamente su Brawl Eccoci qua sul nostro iPadino C'è una free box quindi sembrerebbe una giornata abbastanza monotona E invece no perché c'è Ferre ragazzi che vi porta la chicca Andiamo su lui Brawler e andiamo in particolare a sceglierne uno Ovvero il carissimo Do sta? 8 bit ragazzi Ecco se ci fate caso già c'è qualcosa di strano Perché ha tipo dei caratteri come delle stringhe di programmazione scritte in faccia Questo ovviamente vale per tutte le altre skin credo infatti Ebbene prima di andare a giocare insieme a questo minigame veramente bellissimo Vi chiedo come sempre un super pollicione su che è importantissimo per supportare questi video E per la videocamera che è tipo storta Ok E soprattutto non dimenticate mai ragazzi nello shop di Brawl Stars c'è una cosa che tutti potete fare gratuitamente Inserire il codice Ferre ragazzi è veramente veramente importante mi raccomando Non dimenticate inoltre che nella descrizione di tutti i video ragazzi in cima ci sta un link easy peasy per fare la sub gratis ragazzi Se avete la possibilità di avere Amazon Prime sfruttate l'abbonamento gratuito E' un grandissimo strumento a vostra disposizione per supportare il canale e i video che porto Quindi mi raccomando ragazzi ci tengo un sacco ci si becca oggi in live Allora da quello che mi hanno detto devo semplicemente andare a cliccare su 8 bit per 7 volte e possiamo vedere che c'è questo counter che si va ad azzerare E poi una certa mi apre letteralmente quello che 8 bit ci aveva in faccia Ok E ragazzi io permetto è la prima volta che lo provo e me l'avete segnalato Ho visto che funzionava ma non l'ho mai giocato quindi sarà anche un po' una reaction questo video Proviamolo subito Ah è proprio una storia ragazzi ok Ma è fatto tipo stile Star Wars ok Abbiamo questo questa navicella Ok Ma sto male raga Ma sto male oddio Ma sto malissimo raga ma cosa mi state dicendo Ma è bellissimo ragazzi Mi ricorda un sacco un gioco che andava una volta su dei vecchi Nokia Non so chi se lo ricorda e oddio Aiuto 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 Ma è difficilissimo Aiuto Vai arrabbi tranquillo questo Fermi Fermi Oh mio dio L'ho passato il livello? Ho rischiato di morire già quasi Ok ferma 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 Ok adesso ho i colpi potenziati No raga Mi ha risucchiato Ah e posso ripartire Ma no raga ma sto male Ma oggi in live si gioca a questo raga eh Oggi in live ci spacchiamo questo minigame Ma che cosa gli hai preso a quelli di Brawl E la stellina praticamente di Brawl Ti dà il potenziamento Ma che figata pazzesca Ok ho praticamente subito perso Però ragazzi è bellissima sta cosa Lo adoro un sacco ma io ci giocherò Penso tutto il giorno sta cosa Ma puoi guardare Alcuni dettagli tipo il tasto fire E fatto con un post hit Come la faccia di semino ragazzi Forse il segreto è stare un pochettino più in mezzo Io sto troppo quanto Aiuto E qua mi sono preso un sacco di mine Ok Attenzione Ok Ok Ho potenziato il cannone Va bene Devo stare più in mezzo Aiuto 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 Beh è difficilissimo Posso stare lì in mezzo Raga Mamma mia Ragazzi E' pazzesco No vi giuro mi piace un sacco Sono come un bambino natale Ok E sti cosetti maledetti Aiuto No Ma forse devo sparare di più Prendi power up e non l'ho preso Oh cacchio Devo arrivare a fine livello Ci sarà una fine di livello Penso no Ok Riesco a farli saltare questi cosi no Sì Devo sparare come un pazzo Tanto c'ho Il fuoco Tipo infinito Aiuto Cos'è un bosco da fare Vabbè E' sparito Va bene Oddio Cos'è sta roba E beh ragazzi Così sono qui Rompo pure i meteoriti Così rompo pure i meteoriti Raga Sto a posto Vabbè dai Così me ne sto un sacco Potenziamoci ancora Ah no Aspetta Cosa Che è successo Ma noi preferivo l'altro potenziamento Dammi un po' un altro Ecco Così Ok Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Aiuto Va bene Va bene Va bene Va bene Raga Sto andando molto bene Devo sparare semplicemente Devo spammare un po' di più Come faccio quando gioco a brawl Ok Aiuto Aiuto Mamma mia Eh ma qua ci rimango No Ho passato il livello Mi sento P ragazzi Non ci credo Ho passato il livello Ai salvaggio try again Cosa succede Diventa più difficile È sempre la stessa cosa Mi sa È sempre lo stesso No ma raga Ma è fighissimo No ragazzi Non avete ancora giocato A questo affare E non state giocando Effettivamente a Brawl Stars Cioè Questo qua È È una perla Fantastica Il segreto È spammare colpi Raga Il segreto del tutto È spammare colpi Fantastico No ragazzi Veramente È troppo È troppo bello Adesso non mi viene in mente Come si chiamava Quel gioco A cui ho fatto riferimento prima Ma io mi ricordo Quando ero piccino E Giocavo sul cellulare Neanche il cellulare mio Cellulare di Tipo delle mie sorelle Ha un gioco simile Per Per i vecchi Nokia E raga vi giuro Mi facevo di quelle sessioni Pazzesche Già mobile gaming Da piccolo ragazzi Pazzesco Ma poi notare i robottini Che escono da quel buco nero Che sono palesemente Quelli della Cos'era quel tizio dentro A quella navicella Non mi capito Sapete Però quasi non mi conveniva Prendere il potenziamento Ma questo tizio qua Non ho ben capito chi è Sapete Che sia una sorta di spoiler Su qualche Tipo No Oh Mary su chiudo così Ma c'ho No raga Che cosa sta succedendo Cosa mi stai raccontando Cosa mi stai raccontando Ma cos'è sta roba Raga vi giuro Io non sapevo niente Di questa cosa Ma cos'è Ma no Tipo Confu Confotbit Ma cos'è Ma è un colt Tipo quel coso Sembrerebbe essere Tipo un colt Misto lubaca Che brutto Ma cos'è Ma no raga Ma è tipo un Raga ma sto male Ma cos'è Ma è tipo rosa Ma lol No ma lol Ok scusate Va bene Eh devo capire un attimo La meccanica Ce la facciamo Ce la facciamo Vai 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 Bomba Ok Ok Oh Barley Sto male Raga Barley Sempre stile Lumacone Ma che spettacolo Che brutta Che rosa Che rosa Lumacona Aiuto Aspetta 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 Vai 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 Veloce 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 Devo sparare un sacco Raga Ok Con calma Con calma Con calma Devo assolutamente Scoprire come finisce Questa cosa Raga Ok Vai veloce 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 No Via 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 No però sono Ce la posso ancora fare Ti prego Ok buono Passato ragazzi Buonissimo Ok Forse adesso devo rigiocare Perché Ehm Magari c'è qualcosa Come prima Che mi fa passare A un altro livello Qualche Qualche modo Non lo so Quale Raga Il fatto che Sicuro c'è qualche Easter Egg nascosto Io li conosco Quelli di Supercell Sicuramente ci hanno Piantato qualcuno Dei loro Easter Egg Qua da qualche parte E io non lo vedrò Tipo Mai Aiuto Mamma mia Quanta gente Che ci sta Aiuto Spara di brutto Zio Vabbè ragazzi Ci ho preso la mano Oramai Non mi batte più niente Nessuno Io vi ricordo Che 8bit L'ho fatto al rank 30 Quindi qua sono per forza Forte Raga normale Vinto due volte di fila Oramai Ciao Signori Rimane un bel dilemma Qui eh Hmm Devo assolutamente Scoprire di più Su questo minigame Lo faremo oggi in live Ci spaccheremo Malissimo Penso Fatevi sapere ovviamente Cosa ne pensate qua sotto Nei commenti Noi ci becchiamo Ragazzi Ripeto oggi in live O domani con un nuovo video Sul canale come sempre Vi aggiorno con tutte le novità Quindi state tranquilli Appena c'è qualche cosa Lo vedete Arriva il video Puntuale Quindi un'iscrizione Con un capparellina E un mi piace Se volete vedere altri video Di questo tipo D'altronde vi ricordo Che youtube Quando mettete un mi piace Capisce che a voi interessa Questo video E probabilmente Ve ne farò vedere altri Del genere Ok Ragazzi Un saluto da tutti Ci siamo anche alla prossima E ciao